Data astrale 6351 Caro, possiamo fare rotta su Venere che è pieno di boutique? Sai, vorrei prendere un paio di orecchia a punta Cara, ma non ho più galatti dollari, abbiamo speso tutto quando siamo andati in mare della tranquillità Ma ora c'è carta Agos, non abbiamo più bisogno di moneta Ma c'è da fidarsi di questa carta Agos? Come no, è un gruppo che è esperienza di vent'anni luce Ho capito, capito Dai, facciamo rotta su Venere, via